Ci sarebbero stati effetti personali e attrezzatura informatica nella valigia abbandonata nei pressi dell'edificio che ospita la sede di Bari e Bat dell'ufficio territoriale del Ministero delle Economie e delle Finanze in via Marin al quartiere San Pasquale di Bari. Il rinvenimento del trolley ha creato momenti di tensione nel primo pomeriggio quando la valigia è stata notata da alcuni passanti e segnalata alle forze dell'ordine. Si è subito messo in moto il meccanismo di messa in sicurezza dell'area interessata. Sul posto si è recata la Polizia di Stato con gli artificieri, uomini specializzati per il disinnesco e la rimozione degli ordigni che hanno fatto brillare la valigia. L'intervento è stato effettuato con le attrezzature specifiche mentre la zona è stata transennata ed interdetta al traffico e l'edificio evacuato. Non si esclude che il trolley sia stato involontariamente abbandonato da qualcuno che poi non è andato più a recuperarlo.